aspetto importante e questo l'ho visto nel corso di tutte le ore di lezione di coaching svolte nel corso degli anni faccio publishing quindi pubblico libri su Amazon dal 2018 da settembre a ottobre che 2018 che barca meno in questo ambiente e dal 2019 che insegno alle persone a centinaia e centinaia di aspiranti publisher c'è un elemento fondamentale non è la ricerca keyword non è il libro che non è di qualità non è il problema di come fare la copertina non è come batto il concorrente con le Amazon Ads non è come il trucco segreto dell'Amazon Ads non è niente di tutto ciò ok? e lo vedo continuamente anche tutt'oggi non è cambiato niente rispetto al 2019 tutti coloro che non ottengono dei risultati è per un motivo è uno soltanto e io lo dico continuamente anche ai miei studenti se non fate questo rimarrete bloccati che cos'è? non pubblicano i libri molto semplice ok? perché le persone si fanno pippe e trip mentali infiniti infiniti su allora io perché devo fare questo? si vanno a vedere i video motivazionali e si leggono 56.000 libri allora dovete fare business del publishing ok? siete in web publishing a parte che con web publishing abbiamo completamente acchierato questo problema perché ve lo spiego perché se sei lì ti stai facendo 57.000 seguimentali ho la copertina non va bene l'iperperfezionismo porta alla paralisi da analisi molto semplicemente perché se stai aspettando di fare il titolo perfetto sottotitolo perfetto la descrizione impeccabile la migliore descrizione al mondo il libro che sembra quasi un capolavoro ragazzi il libro non deve essere un capolavoro punto questo non è opinabile nessuno può opinare su questo non con me il libro non deve essere necessariamente un capolavoro deve essere un buon libro se no altrimenti entrate in questo circolo vizioso di eccessiva analisi che vi porta alla paralisi e non vi porta a pubblicare e quindi ritorniamo al punto precedente non ottenete risultati perché non pubblicate i libri e io sono sei mesi che sto lavorando il mio libro cazzo sei mesi ma che stai facendo la bibbia il terzo testamento ok sei un publisher rilassati stai tranquillo non stai pubblicando il capolavoro del secolo non andrai a finire alla mondadori mi duole deluderti anche se ci speri non finisci la mondadori con un libro da sell publisher ok nella stragrande maggioranza dei casi 99,9 periodico chiaro? pacifico questo? lo avete capito? è così però non è che quindi se non è questo non è quello guadagnerete moltissimo da pubblicare i vostri libri su Amazon è un business incredibile non dovete fare magazzino non dovete anticipare soldi per la merce è un fottutissimo file pdf word ma avete capito di cosa stiamo parlando è un file che sta sul computer che se ha problemi il vostro prodotto file libro lo sistemate e ce l'avete e l'avete rimpiazzato all'istante provate a ordinare 10.000 sbiancatori per i denti e danno un problema tecnico so cazzi pagate il magazzino pagate le spedizioni non è banale per chi ha provato a fare Amazon FBA o i vari private labor non è banale o per chi ha provato a fare drop shipping il prodotto non è mio è una merdata cinese ok e devi saper fare le facebook ads sì che sono complicate le facebook ads a seconda di quello che vendi non è banale ok chiaro quindi non state lì a fare no i mille perfezionismi ti vedo studenti che vengono in zoom stasera abbiamo la solita zoom settimanale con tutti gli studenti privati vengono in zoom ah ma io qua a qualcuno no tutti ah ma io qua